Mari Flowers di Antonio Lebro in via Antonio Labriola 20 a Napoli Secondigliano Offerta sposi auto con autista a partire da 150 euro con addobbo di fiori più apertura spumante fuori chiesa addobbo casa sposa chiesa e auto a partire da 350 euro da EpoCar per il tuo matrimonio puoi trovare auto di tutti i tipi alcuni esempi Maggiolone Cabrio Storico Maserati 4 porte STS Mercedes Cabrio Limousine 11 metri bianco Limousine 9 metri rosa Excalibur quarta serie 500 Jolly Fiat Jaguar S-Type e Jaguar XF Porsche Panamera più servizio con elicottero L'azienda oltre a noleggiare l'auto si occupa anche ad addobbarla con fiori particolari per la grande occasione EpoCar Autonoleggi via Antonio Labriola 20 Napoli Secondigliano nei pressi di Metro Scampia Info 333 62 73 329 ti sapranno parlarti di me per la grande occasione EpoCar Autonole Grazie a tutti.